Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Lucky Acid Prizon Prima di cominciare voglio dirvi una cosa Oggi appunto che uscirà questo video Entrerò in momenti random nel server per regalarvi delle cosette che mi sono avanzate E altre che appunto ho lasciato nelle ceste solo per voi Sto parlando di spade, armature, chiavi, un po' di tutto Quindi se voi giocate nel server, beh, può tornarvi comodo E se non ci giocate potrebbe essere il momento giusto per cominciare Perché appunto cominciare con qualcosa di lezzissimo sicuramente non è male Detto questo, purtroppo off camera non sono riuscito a fare abbastanza soldi per andare al rank S Come potete vedere sono al 65% Sono riuscito a farmare molti token, alcuni li ho comprati e robe varie Ma niente rank up Mi dispiace dirlo ragazzi così di cattivera, niente rank up Ma ci saranno comunque cose bellissime, infatti andremo a vedere Intanto nel mio inventario ho un pochettino di cose da aprire Abbiamo dei Lucky Block verdi che sono molto potenti E dei Lucky Block blu che sono potentissimi Ho aperto uno solo perché appunto ne avevo 5 Di Lucky Block blu off camera E effettivamente ragazzi mi ha dato una cifra incredibile Era tipo 500 milioni, una cosa simile Ecco ora mi ha dato invece 500 mila, ok no è pochissimo Infatti i verdi non so nemmeno perché li sto comprando Principalmente ragazzi li prendo perché voglio farveli vedere Però effettivamente non sono nulla di che Vediamo un attimo se ci esce qualcosa di buono negli ultimi Assolutamente, no oddio qualche token si però Abbiamo un bellissimo kit elite E allora questo kit elite, intanto ragazzi qua mi si è riempita la chest Perché voi potevate accedere alla mia isola Quindi l'avete riempita voi questa chest qui E ok regalerò anche questo kit elite probabilmente quando uscirà questo video Beh giustamente anche tutte le cosettine collegate Ma ragazzi abbiamo anche 4 lucky block blu Questi qui veramente ci possono dare di fortunissima E trovare le cose bellissime anche in video Oh cavolo l'aperti 2 raffica, anzi 3 Non ci credo ragazzi Allora 50 token, 70 milioni, 70 milioni Ultimo 50 token Ci è andata male anche stavolta però Qualche milioncino ce lo siamo fatto Non ti guadagno assolutamente E' sempre una perdita Però ragazzi che vi devo dire Mi piace sfidare la fortuna E aprire lucky block Detto questo andiamo allo spawn Perché ragazzi bisogna andare allo spawn? Perché siccome non posso fare un rank up Sarà il caso di spendere comunque questi soldini in qualche modo? Andiamo nello shop Miniere lotti Abbiamo quella da 4 milioni e quella da 10 milioni Purtroppo 10 milioni è troppo Compriamo quella da 4 milioni L'ho comprata ragazzi Ok ce l'ho in mano proprio così di cattiveria In teoria ora dovrei andare nel warp lotti Eccomi qua E dovrei comprare un lotto Ma io non so come si faccia a comprare un lotto Questo è un problema Ci sono tipo dei cartelli qua Magari devo cliccare sul cartello per comprarlo Ah no questo è vuoto ma è claimato Forse è meglio chiedere in chat Perché mi sa che faccio prima Allora P auto Slash P claim Metano 007 Ok Vediamo Mi ha tipato qua Tipo Si è entrato nel lotto di metano Uh che figo ragazzi Che figo Intanto ringraziamo in chat perché ci hanno aiutato tantissimo In teoria ora devo cliccare in un punto con questo immagino Eh no Devo forse andare più indietro Allontanati dai bordi Eh madonna ma quanto è grande Quanto è grande questa roba che devo piazzare Ah ok ora l'ha fatto Eh l'ha messo un po' a caso devo dire Ma vabbè dai ci può stare Sì ma ma come dovrebbe funzionare Cioè tipo io qua posso scavare Ma non c'è nulla Hmm What? Ho cliccato qua su questo blocco qui Si è creato tutto qua E ci sono anche i lucky blocchi nuovi Quelli russi ragazzi Perfetto Perfetto E quindi io cosa devo fare Cioè tipo devo scavare così Eh però non mi funziona excavation qua Che lezzata Che lezzata Ma ci sono i blocchi d'oro I blocchi d'oro forse valgono tanto Sinceramente non lo so Eh magari proviamo a scavare un attimo E vediamo se effettivamente ci danno un bel po' di soldi oppure no Ah ok ma l'ha venuto in automatico Mezzo milione era Beh non è che sia tantissimo È buono il fatto di ottenere così l'oro L'oro così è veramente figo ragazzi Come cosa perché se dobbiamo addobbare robe Ci abbiamo già i blocchettini pronti Intanto vendo anche questi E a questo punto ragazzi Voglio aprire i lucky block nuovi Perché io appunto ho creato questa cosa Ho speso un bordone di soldi Non so se li ho investiti bene oppure no Ma per aprire questi nuovi lucky block Quindi vediamo un attimo Sono lentissimi Ma veramente lentissimi E mi ha dato 3 token Allora ragazzi Cioè dire una cosa Noi siamo abituati ai lucky block Che effettivamente mi danno 50 token 70 Intanto qui mi stanno dando cose Grazie Grazie Comunque siamo abituati ai lucky block Strapotenti Ma quelli ragazzi veramente sono costosissimi E mentre quelli magari normali Che appunto sono le spugnette Ci danno veramente le peggio schifezze Mentre questi qui Tutto sommato Mi danno Vedo sempre circa 3 token 3 token ragazzi ha scavata così Non è affatto male 70.000 No no Sono buoni alla fine Sono molto buoni questi qua Il fatto è che Secondo me Oserei dire anche più di secondo me Non ne vale la pena ecco Perché insomma È troppo costoso Per quello che ci guadagno Volevo anche vedere un'altra cosa con i token Praticamente mi è stato detto Nell'ultimo episodio Che explosive Non è compatibile con Excavation Però altri incantamenti si Allora fly Non mi interessa Lightning Potrebbe essere interessante Ace pure Se riesco Vorrei metterci lightning Perché lightning ragazzi Fa cadere un fulmine E questo fulmine Praticamente Spacca anche l'hacky block Quindi è un'ottima cosa Per farmare Ora qualcuno vorrebbe dire Tanno tu non c'hai abbastanza token E invece si ragazzi Mi porto dietro Questa cosettina qui Che in verità Non ho farmato Dall'ultimo episodio A questo episodio Era un token Che mettevo da parte Da Una settimana piena Penso Un po' di più Forse Un qualcosa di simile Tenevo nascosti In una cesta in casa E se non sbaglio Dovrebbero essere circa 2000 o 3000 token Ma non ne sono sicurissima A dire il vero Intanto Me li prendo tutti Così forse Riesco a derivare a 6000 E a metterci l'incantamento Che appunto volevo Pensavo anche di venderli Perché ho detto Via Ne ho tantissimi ragazzi Se li vendo Magari riesco anche a fare Il rank up Purtroppo però Si sono svalutati tantissimo Veramente Cioè che poi svalutati Sarebbe il loro valore vero Valgono 150.000 l'uno E ho fatto un calcolo E praticamente Se andavo a vendere Ci guadagnavo Praticamente pochissimo E non ne valeva la pena Quindi ho detto Boh me li tengo E li uso poi Quando ne ho bisogno Intanto vediamo Se mi fa mettere lightning Ragazzi Si Me l'ha fatto mettere Perfetto Il livello massimo E tre Io ce l'ho a livello uno Costa un bordello di soldi Potenziarlo di nuovo Vediamo se perlomeno Qui funziona Ma no ragazzi Proprio nei lotti È disabilitato Anche il fulmine Tutti gli effetti Sono disabilitati Quindi andiamoli a provare Nell'uarp è normale È l'unica Quindi dai proviamolo Allora io tipo scavo qui Il fulmine però Non sta accadendo Beh probabilmente È una cosa rarissima ragazzi Potrei aver buttato via Soldi inutilmente Perché di fulmine Non ne vedo nemmeno uno Si si ragazzi Allora non ho visto L'effetto del fulmine Però ho visto Lucky block sparire Vediamo se mi ha detto Che ho aperto Qualche lucky block Per caso No in chat Non mi sembra Che ho aperto Dei lucky block Però effettivamente Si vedete Vedete i lucky block Spariscono alcune volte Tipo ora Ne apro un pochettino qui Allora mi sembra Di aver visto Che è un evento Comunque abbastanza raro Non è che capita Ma intanto Dalle 4 ore in su Come fai a giocare 4 ore in su E essere ancora All'f Giochi da pochi giorni Allora Ma fidiamoci ragazzi Fidiamoci per una volta Quindi gang Invite l'orix 179 Invitato Che stava farmando Qui Quindi Bello mio Accetta mi raccomando Perfetto L'orix È entrato nella gang Diamogli Il regalo di benvenuto Quindi diciamo Di andare nella sua isola Un secondo Perché sennò Qui raccattano un po' Tutti quanti Anche se Volendo ve le posso dare Anche a voi Cioè tenete Siete tutti i rank c Ma perché siete i rank c Dove Cavolo stava scavando L'orix Ma perché scavava nel rank c Comunque eccolo qua Nella sua isoletta Diamoli Ben 4k E da quelli che ho visto È pure un kit hero Quindi può aprire I lucky block Vip Diamogli anche un po' Di quelli normali Così Un giusto Un regalino piccolissimo Di benvenuto Spero ti possa piacere Ovviamente In futuro ragazzi Magari faremo anche qualcosa Di lezzo e speciale Per quelli della gang Detto questo Spero che ti troverai bene qui E io intanto Me ne ritorno nella mia isola Comunque ragazzi Spero che questo video Lezzissimo della Lucky Acid Bryson Vi sia piaciuto Nei prossimi episodi Proveremo a arrancare A fullare la gang E intanto ragazzi Ve lo dico che la mia gang Ha circa Quasi 300 uccisioni Una cosa assurda Io non so che cavolo È che si sta tutto il tempo A fare pvp Ma di certo non sono io Anche perché sono Abbastanza scherzino Ma veramente Magari in futuro Faremo qualcosa di figo Tutti quanti insieme Detto questo Spero che questo video Lezzissimo vi sia piaciuto